Musica Ciao amici e mi sono in questo nuovissimo video Oggi faccio un video un po' diverso dal mio solito Perché vabbè ogni tanto ci sta a cambiare E voglio fare qualcosa di gamer app del cellulare E ce n'è una che sta spopolando adesso Ed è un videogioco app per iPhone Il videogioco app per iPhone in questione è Aswati Ecco questo videogioco dove in poche parole Con la nostra voce dovremo guidare questo omino Dal cappellino, dal cappello biondo come me In questa missione, non lo so come funziona L'ho aperto e mi sono divertito già un sacco Non lo vedrete professionalissimo questo video Perché sono proprio negato io a montare i live dei videogiochi E insomma non so come si chiamano Ecco proprio sono negato Però sono sicuro che ne uscirà una sex version Quindi orgasmi, versi, peggio di un film porno Quindi ragazzi, i miei 18 anni non guardatelo E niente, adesso ho pure il mio cameraman Cameraman, cameraman dietro Che, come si dice? Che, insomma, che mi Che registrerà alle mie spalle questo videogioco Così lo vedete anche voi E spero di divertirlo, non lo so Comunque se volete provarlo Adesso non so se c'è per Samsung, per Android insomma Ma per Apple, iOS c'è Quindi lo trovate con il nome di Adesso non so, Aswati Spero che non vada fuori fase Aswati si chiama questo coso Già il nome, già il nome programma Niente, adesso cominciamo con il gioco E vediamo che livello arrivo Sicuramente a livello 1 Però non preoccupiamoci L'importante è sempre provare Ciao, ci diamo al gioco Allora, scusate per l'inquadratura Ma veramente è una cosa Che sto facendo all'ultimo minuto Proprio perché L'ho ritenuta un po' divertente E non è proprio così professionale Come vorrei Cioè, di solito mi impegno molto di più Però vabbè, allora Questa è l'applicazione Come vedete Questo omino qua con il capello biondo Aswati si chiama Non guardate il mio cellulare Perché è veramente concio male Mi è caduto ancora una volta E mi si è rotto Comunque, apro l'applicazione E ci si presenta questa schermata Penso con i vari ostacoli Del videogioco, del videogame Allora, così Ecco Poi E questo inizia il gioco No, ho perso Vabbè Comunque riproviamo Eccolo là Bene Cioè, proprio questo qua Ha un margine di morte Molto, ma molto veloce Cioè, non fa in tempo essere toccato Che muore Vabbè, riproviamo Ah 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 Ok Ottimo Ah 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 No, vabbè Non ci siamo Abbiamo già capito da questo Da questo Piccolo schermata Che questo videogioco Nonostante sia una puttanata È un po' difficile da giocare Vabbè Adesso riprovo Un attimo Ah 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 Morto ancora una volta Cioè, io sono senza parole Sono Ah 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 No Io moro Ma va bene Perché Imparate tanti versi Che potete fare a letto Eh Ah 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 No, vabbè Però manco farla a pivetti Non si può Comunque andiamo avanti Proviamo ancora una volta Palla Ah Ah Sì Ok Ciletta Ah 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 No, basta Cioè, io ci rinuncio Comunque Questa qua è proprio la mia pazienza Quando gioco con i videogiochi E E pensare che una volta Ci prendo via Gran tante ore Ma Ovviamente si vede Che le mie passioni sono altre Riprovo un'ultima volta Vediamo se vado avanti Se almeno supero il primo ostacolo Perché vabbè Sono le prime due palle Ma non le ho ancora superate Ah 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 No, giù Manco il coso interrotto Ah 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 Ok Basta Ho provato a fare Cicciolina Ho provato a fare Ilona Staller Ho provato a imitare tutti i versi Più possibile di immaginarvi Le diverse pornoattrici Ma purtroppo io continuo Non riesco ad andare oltre Cioè mi fermo sempre qua Non so se vedete Mi fermo sempre qua Cioè vabbè No comment Comunque veramente Un bellissimo gioco Che eh Vi consiglio tantissimo Di scaricarvi Giusto per farvi due risate Due versacci Eh Secondo me mi becco una denuncia Tra qualche minuto Perché sto facendo versi Osceni E atti osceni In luogo pubblico Non ne ho so in casa mia Però ci sono anche i miei vicini di casa Chissà cosa stanno pensando Chissà cosa stanno A che film porno Stanno pensando Ma No problemo Perché E' tutto finito Tutto un gioco Insomma Ecco Scusa dire Comunque niente Questo qua è un Vi ripeto il nome Tutto Eh Non si è bloccato tutto Questo qua è un'app Che si chiama Assuati Assuati Esatto E la trovate Su app store Gratuitamente E niente E' divertente Carina Niente di che Niente di impegnativo Però io non riesco a superare il primo livello Neanche dopo due metri di strada Che fa questo petuto Eh Niente Io spero che questo video vi sia piaciuto Vi mando un grandissimo bacio E noi ci vediamo al prossimo video Scusatemi Mi sono dimenticato di dirvi un'altra cosa Mettete un bel like Commentate Condividete se volete condividere E iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Perché io vi voglio Come ve lo dico sempre Vi voglio sempre di più sul mio canale Un bacione grosso Al prossimo video Ciao Ciao